La sconvolgente storia della nave Fantasma Mary. Si narra che fosse una maestosa nave mercantile che solcava gli oceani. Durante uno dei suoi viaggi, la nave scomparve misteriosamente, lasciando solo una scia di mistero. Si dice che il destino abbia trasformato la nave e l'intero equipaggio in spinti tormentati, condannati a vagare per l'eternità come la nave Fantasma Mary. Da allora, l'apparizione della nave è stata segnalata in tutto il mondo, avvistata di notte nei momenti di luna piena o durante le tempeste. Coloro che hanno avuto la sfortuna di imbattersi nella nave spettrale raccontano di avvistamenti di inquietanti ombre spettrali che camminano sul ponte, voci disperate, e una sensazione di profonda tristezza. Manda il video ad una persona con la quale visiteresti la nave.